buongiorno buongiorno a tutti oggi facciamo remy la missione nuova disponibile di remy e poi se c'è tempo sono tanto lungo facciamo quella di gothel così poi io aumenterò l'amicizia e vedrò cosa c'è da fare più avanti perché devo aumentare le amicizie di ariel christophe mini e ursula assolutamente e anche gli altri ma devo far partire prima loro in ogni caso iscrivetevi al canale mettete un mi piace e lasciate un commentino che a me fa sempre piacere grazie allora andiamo a vedere dove remy remy è devo raccogliere cose le cipolle le cipolle quindi remy ci serve lo stesso in ogni caso andiamo a cercare remy non so che avevo più libri di ricette solo non ricordo dove sono dimenticare le cose è un problema comune topolino potrebbe ricordarsi dove siano tu credi e qui risate un po quando hai tempo potresti chiedergli se hai visto i miei libri di ricette chiediamo intanto remy vieni con me che devo raccogliere le cipolle semmeno non ti perdo voglio uscire di qua ma raccogliere le cipolle si arrivo adesso ok ho deciso che le cipolle le raccoglierò dopo offline i libri di ricette di remy? ah si li ho nascosti nell'oblio ho scritto dove li avevo messi in questa lista oh no la carta deve essersi bagnata è illeggibile quando ho scritto la lista però stavo pensando dove avevo nascosto i libri potresti usare la magia per trasformare questi appunti in quel ricordo? grazie amico ok esaminiamo siccome io sono un mago però allora vicino al ponte vicino alle rovine credo e quella è casa mia no? non è casa mia è casa di pippo si è casa di pippo ok vediamo andiamo a scavare prima vicino a casa di pippo poi le rovine sono di là quella è casa di pippo quindi qua secondo me è qua eccola una chiudiamo sto coso che va no non apriamone un altro chiudiamolo e basta ok uno l'altra è vicino al ponte solo che è il ponte di qua o il ponte di là ciao Cristof ehm dimmi che non è il ponte ma è il ponte poi mmm mi sa che non è il ponte questo o si perché qua vedo che non c'è niente vedere se di lì c'è qualcosa che brilla no andiamo alle rovine andiamoci così le rovine sono lì credo quindi c'è il cimitero degli animali non è questo quello del cimitero comunque le rovine sono qua le rovine sono là ecco le là le rovine quindi sarà qua aspetta perché mi ci aveva fatto pescare paperon dei paperoni alle rovine però non mi faceva vedere fammi andare a vedere il ricordo questo e lì è il ponte della spiaggia però non è detto che sia quello quello era facile quello è dove ci sono le rovine ma cos'è che brilla lì dentro scusatemi cosa brilla lì dentro aspetta no no dai molla ma è possibile che non riesco mai no è questo che brillava va bene no 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 Grazie a tutti. 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 Tupino? Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. dentro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.